Di scorso c'è una notizia che ci inquieta davvero, chiaramente c'è un'inchiesta, valuterà tutto, ci sono degli indagati per esticazione al suicidio, alcuni minorenni e altri maggiorenni, tra questi la notizia delle ultime ore è che ci sarebbe anche la fidanzatina di Alessandro, in qualche maniera lo avrebbero spinto, secondo chi sta indagando, a compiere questo gesto estremo. Allora, cominciamo con la notizia di oggi, appunto quella della fidanzata di Alessandro, che potrebbe aver avuto un ruolo centrale in questo suo ultimo assurdo gesto. Chiara Iommi Selleri. L'ex fidanzatina. Sarebbe stata lei la prima a perseguitare Alessandro con insulti e minacce via chat, perché lui l'aveva lasciata per un'altra e lei non riusciva ad accettarlo. Per vendetta avrebbe spinto gli amici, cinque ragazzini fra i 14 e i 18 anni, a prenderlo di mira, facendogliela pagare per quel rifiuto, perseguitandolo con messaggi di insulti ad ogni ora, minacce e intimazioni a togliersi la vita. Ti devi uccidere, ti devi buttare di sotto, una guerra di parole che presto si sarebbe dovuta trasformare in azione, con un pestaggio organizzato che avrebbe dovuto avere luogo davanti a scuola al rientro in classe. Forse proprio per questo giovedì scorso Alessandro, 13 anni appena, non ce l'ha fatta più. Da solo in casa, stanco e disperato per una situazione che non riusciva a sopportare, ha aperto la finestra della sua cameretta al quarto piano di questo appartamento di Gragnano, vicino a Napoli, e si è gettato nel vuoto. Non prima di inviare un ultimo messaggio di addio alla fidanzatina di un anno più grande, l'unica con cui aveva avuto il coraggio di confidare le angherie alle quali era sottoposto. Non reggo più, ti lascio, ricordati di me. Poi volo di oltre 15 metri che non gli ha lasciato scampo. Un incidente si era pensato e forse sperato all'inizio, perché quando è caduto Alessandro stringeva fra le mani il cavo di un'antenna. E invece no, i carabinieri sequestrano il suo telefonino e scoprono la verità. Una verità terribile fatta di messaggi che gli inquirenti definiscono inequivocabili da parte di quattro ragazzini minorenni e due maggiorenni, due dei quali, fratelli, erano già stati denunciati per un violento pestaggio avvenuto a Gragnano, sempre contro un ragazzino solo. Tutti ora sarebbero indagati a piede libero per istigazione al suicidio. Messaggi di cui la famiglia, distrutta dal dolore per la morte dell'unico figlio, non sapeva nulla. Era un ragazzo gioioso, simpatico, bravo a scuola, pieno di amici e piacente, dice chi lo conosceva, che viveva una storia d'amore felice. Possono essere state davvero l'invidia, la gerosia e la sete di vendetta a muovere chi lo ha spinto a farla finita? Una storia incredibile e dolorosa anche perché, guardate, lui ritorna dalle vacanze ed è un ragazzo felice e poi tutto precipita in due giorni. Andiamo in diretta a Torale del Prino. Ci sono questi messaggi che, a quanto pare, parlano chiaro e quindi insulti, veniva bullizzato, veniva spinto a un gesto estremo. Perché adesso viene fuori questo ruolo centrale della fidanzata? Cosa porta a lei? Allora Alberto, c'è una doppia tragedia che sta vivendo Gragnano. Da una parte è quella di Alessandro, autore di questo gesto estremo. Dall'altra sei ragazzi, di cui quattro minorenni che sono indagati. Fra di loro pare due ragazze. Una di queste ragazze sarebbe appunto questa fidanzatina, possiamo chiamarla così, una storia tra adolescenti, neanche quattordicenni. Ebbene sì, però oggi ho parlato con l'avvocato Pepe, che è l'avvocato della famiglia di Alessandro, ci ha pregato di usare molta cautela e così farò. Allora, ci sono dei punti fermi. Uno è che sicuramente lui ha visto nella chat scambiata tra questi ragazzi questo messaggio, devi ucciderti, che è molto grave, riconducibile a uno dei sei indagati. Dall'altra parte, queste teorie per il momento di questa ragazza che avrebbe orchestrato tutto, lui mi dice aspettiamo a mettere tutto in fila, perché ci sono le indagini in corso, perché in questo momento c'è l'autopsia in corso, dopodiché il corpo di Alessandro verrà reso alla famiglia e domani alle 11 in piazza San Leone ci saranno i funerali. C'è un messaggio, Antonella, ecco, c'è un messaggio che viene scambiato, che lui scrive a un certo punto, da quello che viene ricostruito, usiamo il condizionale, e lui avrebbe scritto alla fidanzatina a un certo punto tra poco toglierò il disturbo. Chiaramente ci domandiamo perché un ragazzo di 13 anni, che tutti descrivono come un ragazzo felice, tornato dalle vacanze, brillante, bravo a scuola, con tanti amici, perché scrive alla fidanzata tra poco tolgo il disturbo. La nostra inviata ci restituisce questo racconto bello e commovente di Alessandro. Sentite. Il ragazzo è educatissimo, gente, persone per benissimo. Hai incontrato il papà e la mamma? Sì. Stanno al quarto piano sotto di me. Siamo salutati, è nulla, nulla, non abbiamo detto nessuna parola, solo pianti e saluti. Andrebbero dai 14 ai 18 anni sei indagati sospettati di istigazione al suicidio del giovane Alessandro, più giovane di loro, e un manifesto fuori di casa che ne annuncia il funerale. Si affaccia sul retro l'appartamento della famiglia di Alessandro. Vedete il filo della televisione che all'inizio sembrava fosse la causa di una disgrazia per cui Alessandro si fosse sporto troppo in avanti e fosse caduto, ma purtroppo la realtà dei fatti in questo momento non sta dicendo la stessa cosa. Devi ucciderti, sembra sia scritto su uno dei messaggi in chat trovati dai carabinieri e scambiati con la banda dei bulli. È una cosa che non ce l'aspettavamo e non deve passare liscia sinceramente, la devono pagare. Io sono mamma e se fosse successa a me non so come avrei raggito. Gragnano, il suo piccolo mondo, è sconvolto da tanta violenza che va ben oltre le cose da ragazzi. È brutto sapere che un ragazzo viene bullizzato e alla fine, come devo dire, viene obbligato a fare queste cose. Cioè, si è sentito debole. Secondo me la cosa buona era parlarne con i genitori. Lei quando l'ha saputo cosa era successo? Vedi, c'era mio marito in casa. Io lavoro, ma mio marito è in pensione, lui era in casa e è sceso giù. Non credo ci sia consolazione. Secondo me, non lo so, se poi scatta anche un senso di colpa per dire c'era tutto questo sotto e non l'ho capito. Però tante volte noi figli veramente non li capiamo, non riusciamo a capirli. È chiaro che questa vicenda è assai dolorosa, soprattutto perché parliamo di un ragazzo di 13 anni. Il monito che arriva da questa storia è quello che noi dobbiamo fare molta attenzione, controllare, è brutto, ma bisogna farlo, le chat dei ragazzi, cosa accade, non sottovalutare alcuni segnali come quelli che stiamo raccontando. Anna Antonella, perché parliamo di ragazzi, tu mi hai detto che ci sono indagati la fidanzata dei maggiori anni, ma ci sono anche dei ragazzi minorenni. Che cosa sappiamo di loro? Qual è il contesto? Quello che tu ci hai appena restituito è un ragazzo amato, che va bene a scuola, brillante, apparentemente felice. E dunque, cosa è successo? Guarda, te lo faccio vedere Alberto, il suo piccolo mondo era tutto qui intorno. Quello è il palazzo della tragedia. Questa qui è Gragnano, lì in fondo, da questo spiraglio che ho davanti, si vede l'isola di Ischia e poco distante da qui c'è la sua scuola. Insomma, in queste strade, in questo ambito viveva e si muoveva Alessandro. E anche questi sei indagati, perché sono tutti ragazzi, pare che siano tutti ragazzi di Gragnano Alta, proprio questa zona in cui ci troviamo. c'è un altro fatto, se dalla autopsia dovessero emergere elementi che possano cambiare la situazione, potrebbe anche cambiare il capo di imputazione, quindi non istigazione al suicidio, perché Alessandro, avendo 13 anni, quindi meno della soglia dei 14 anni, potrebbe essere considerato un soggetto fragile, incapace di intendere e di volere. E in questo caso, allora, il capo di imputazione diventerebbe omicidio e per i due maggiorenni sarebbero guai. Grazie a te.